Che bella santa, che bella santa! Ora ora arriveremo! Penso che prima di tutto perché sempre sono stato bene qua, mi hanno tenuto bene, mi hanno dato fiducia, quindi quello prima di cominciare il campionato è stato uno dei punti forti per rimanere. Tu avevi detto che ho ricevuto delle offerte in effetti, però non le ho nemmeno valutate? No, no, perché sempre qua sono stato bene, come ho detto prima, tutti mi hanno dato fiducia al Ministro, al Presidente, ai miei compagni, sempre ho parlato con me, quando ho avuto la possibilità di andare ho parlato con loro, però quando ho ricevuto queste cose non ho avuto il dubbio di rimanere. Senti, con Vibala diceva che siamo amici, abbiamo una bella intesa in campo, in campo è fuori, no? Mi pare che questa intesa si stia perfezionando. Come entra Pelotti in questo gioco delle parti? Cioè è uno che può, tu sei d'accordo che potete giocare tutti e tre insieme e fare delle cose? Penso che lui è entrato alla perfezione contro il Napoli, no? Ha dimostrato che è un grandissimo attaccante, che ha la porta alla fronte, no? Lui vuole segnare il massimo possibile, siamo contenti per lui perché è un bravo ragazzo, però penso che ognuno che deve giocare deve entrare alla perfezione, non solo io Franco, penso che anche con io, Pelotti, io e Simo, con tutti, anche Franco con gli altri, penso che tutti dobbiamo essere più che amici dentro il campo. Qualità che vi potete integrare? Certo, penso che non tutti siamo uguali. Franco ha grandissima qualità, magari non è veloce, però ha una tecnica incredibile e penso che tutti hanno... Franco, tu? No, io, questo dopo se lo chiedete a Franco o alle altre, no? Penso che tutti hanno un po' diversi nel senso della qualità. Giornale Sicilia, Salvatore Loiacone e poi Gazzetta dello Sport. Sì, come mi sembri di questo grande momento che state vivendo come squadra, anche tu come Simo, è proprio differenza a qualche giorno fa, quando il Presidente ha detto presto Paolo varrà 30 milioni, 35 milioni, quando senti queste cifre rompanti, tutto conto? No, ogni tanto cerco di non scaldare tanto il Presidente, perché parla sempre tantissimo. Poi penso che ancora devo crescere. Abbiamo giocato quattro partite, ancora non abbiamo vinto. Penso che dobbiamo essere un po' incazzati in quel senso, anche se abbiamo fatto grandissime prestazioni, dobbiamo cominciare a vincere. E poi quel discorso sempre ringrazio a Samparini per le cose belle che ci sono di me. Quando tu dicevi che in un'altra partita non abbiamo mai vinto, con la Lazio può essere l'occasione giusta e perché può essere l'occasione giusta con la Lazio? No, penso che può essere l'occasione giusta perché giochiamo a casa, abbiamo il Barbera che sicuramente sarà a carico, i tifosi saranno con noi e perché stiamo giocando bene. Penso che abbiamo dimostrato dal cominci del campionato ad oggi che abbiamo fatto grandi prestazioni, che l'equipo c'è, quindi penso che contro la Lazio può arrivare la prima vittoria. Fabrizio? E poi perché mi pare che la Lazio sia l'altra squadra che voi avevi insegnato in Serie A, la Sampdoria, la Chiglia, la Chiglia, il N, adesso la Lazio è che fa un altro gol di vita. Ricordo che prima in Serie A avevamo pareggiato con un rigore alla fine, quindi non è stato così veloce come contro la Sampdoria, però penso che quest'anno sia il ministero che mi mette in campo e poi l'insegnare io no. No, sarebbe bello di nuovo anche segnare altre squadre pure, penso che non solo fare questi due gol, ma solo fare queste due squadre. Si incominciano a sprecare paragoni con i giocatori del passato, il basket se si fa davvero un'accavani con il pastore, è un accostamento in cui vi vedete e che volete magari imitare? No, no, penso che noi vogliamo essere diversi da loro, anche se loro hanno fatto grandissime cose, noi vogliamo fare di più. Come ho detto prima, prima dobbiamo cominciare a vincere perché anche se abbiamo fatto bene ancora non abbiamo raggiunto i tre punti, che è quello importante per l'obgettivo che abbiamo. però poi con il paragone che hanno fatto è bello perché loro sono giocatori di grandissime qualità che hanno fatto tante cose belle qua. Valerio Tripi, Repubblica. Sì, vorremmo tornare un attimo a quello che diceva prima sulle valutazioni. Hai mai pensato in questo inizio di stagione con i risultati positivi a livello personale tuo? Finalmente lo sto dimostrando che non erano soldi stregati quando si parlavano di quei 12 milioni famosi, soprattutto ora c'è stata poi questa cosa del tasso di 8 milioni. Insomma, stai cominciando a dire con la soddisfazione che non sono stati investiti? Certo, dall'inizio quando sono arrivato qua che voglio dimostrare a tutti che quel soldi che ha fatto Samparini può ritornare anche più a lui. Quindi voglio continuare così, ho la fiducia del mister e dei miei compagni come ho detto prima quindi per me quello è importantissimo poi uscire dal campo con tranquillità e poter dimostrare che posso fare ancora di più. Riccardo e poi Mario. Ciao Paolo. Ciao. Volevo chiederti che cosa è cambiato nel Palermo rispetto alla stagione di due anni fa? Penso un po' tutto, a differenza di quell'anno magari un po' l'organizzazione e la squadra ha cambiato un po' tutto, abbiamo cambiato tante volte l'allenatore, oggi siamo quasi da un anno con Giacchini, penso che la fiducia è diversa da quella che avevamo è il primo anno che sono stato io in Serie A, quindi penso che sono cambiate tante cose che si cominciò a dire e devo dire tante. Scusate, Mario e Polina. Senti, una cosa che mi è piaciuta molto, a parte quando segni ovviamente, che è una cosa che odia, però mi è piaciuto molto a Napoli quel tross che hai fatto, l'assist e il gol di Perotti, quindi anche questa possibilità di essere odi dalla squadra in questa maniera alternativa che diventa come se fosse un gol. Certo, non sempre si può segnare o non sempre riesco a segnare che è lo più bello, però quando arrivo lì le posso dare la palla a un compagno per fare gol come è stato a Perotti, mi è piaciuto tanto, però mi è piaciuto di più quando lui ha fatto il gol che è venuto subito a abbracciarmi, quello è stato lo più bello, no? Nino? Quello che stiamo maledetto adesso è il mio Perotti o pensi che avrà ancora altri immagini di Perotti? No, penso che… Il mio Perotti va! No, con rispetto a Perotti penso che ancora no, potete avere più… Però… Ti va? No, penso che pure posso ancora dimostrare di più. Come ho detto prima, sempre quando ho la fiducia al mio allenatore e ai miei compagni è lo più importante per me, per essere sereno e tranquillo e anche della gente, penso che quando entro in campo ho la fiducia ai loro, questo per me è importantissimo perché posso giocare con molta tranquillità e per me è molto importante e spero di poter dimostrare che posso fare ancora di più e nel prossimo partito anche vorrei segnare di nuovo come contro la Samba. Fabrizio e poi di nuovo Valerio e Salvo. Volevo sapere se ti è dispiaciuto un po' non riuscire a segnare al postale che è stato il tempo di Maratona. Si è fatto un assist che è fatto un gol, però magari c'è riuscito Masquez e l'Argentino che ha giocato? Certo, quando sono uscito ero un po' passato perché per questo motivo volevo segnare in quel campo che per noi argentini è molto importante perché ha giocato Maratona che per noi è un idolo quindi ero contento per Franco però allo stesso tempo ero un po' passato perché volevo segnare pure io. Franco che cosa ti ha detto? C'era minima? Era contentissimo, un po' arrabbiato alla fine perché volevamo vincere, siamo stati vicini poi quando siamo arrivati in camera in albergo avevamo parlato pure della partita sapevamo che la potevamo vincere, siamo stati vicini però sappiamo che adesso abbiamo un'altra partita è che quel punto che abbiamo preso da Napoli sarà molto importante se vinciamo la Lazio. L'ultimo per me, il rapporto tra del basket se si è cimentato queste strade o mi stai? Un'altra partita dove già era nato il giorno? No, no, già ci conoscevamo prima di arrivare qua, adesso quando siamo tornati in vacanza dopo la Serie B siamo stati pure insieme all'Argentina però ci conosciamo già prima. Valerio è poi ancora Salvo? Sì, più o meno era quella che ha chiesto lui proprio sul San Paolo, su quello stadio se avete detto qualcosa in particolare con Franco a proposito di questo tempo visto che poi è un stadio importante In settimana avevamo visto un video di Maratona quando lui faceva il riscaldamento con quella canzone e poi quando siamo entrato in Napoli hanno messo quella canzone e ci siamo guardati anche con Edgar Barreto perché lui la conosceva pure e abbiamo fatto un sorriso, quel momento è stato veramente meraviglioso. E poi per concludere poco fa, tu stesso quando sei uscito eri un po' arrabbiato per la sostituzione? No, no, voglio dire che non era per la sostituzione, penso che questo può essere una frazza del rispetto per i miei compagni quindi era un po' arrabbiato per quello che le ha detto lui prima che aveva tanta voglia a segnare in una partita così che ci sono stati tantissimi gol quindi era un arrabbiato un po' con me. Salvo e poi giornate in Sicilia a chiudere, grazie Tu hai detto che vuoi fare tanti gol, no? Per l'ultimo vuoi fare tanti, l'ha detto un pezzo, ho piaciuto la basket pure perché non vuole giocare attaccante ma quando potete arrivare tutti e tre insieme? No, spero di fare il massimo possibile, ci devo dire un numero, non lo so sarebbe bellissimo, dobbiamo segnare quasi tutte le partite per arrivare Si conferme che guardate non bene? Eh, tra le tre anche pure con gli altri attaccanti ce la facciamo arrivare 30-40 gol Lo Iacolo a chiudere? Un po' meglio nel discorso di Mascardi, lui continua ad essere il tuo procuratore? Come mi dico questo contenzioso? No, no, lui non è stato mai il mio procuratore Lui solo ha portato il Palermo in Argentina per fare l'offerta per portarmi qua il mio procuratore non è stato mai lui Quindi è un mediatore? È un mediatore Va bene così, Salvo? Ti preoccupa questo contenzioso che c'è tra Mascardi e Palermo? No, no, io non penso quello perché non sono cose miele sono cose che devono fare tra di loro Per me quello è già stato finito Fabrizio a chiudere per me No, vorrei chiederti se quanto sono vero e veloce quanto sei stato vicino se è vero mi interessa l'Inter durante il Palermo in Argentina a Palermo? Questo è stato un chiamato che era la mia squadra d'instituto poi con il mio procuratore non mi ha detto mai niente di venire qua a fare qualcosa con l'Inter Comunque un avvicinamento tra le squadre? Mi sa che sì perché i giornali dell'Argentina parlavano su questo però non si ha avuto mai niente Antonio, perché c'è dopo l'ultimo? Il fatto che l'avanzo si avvicina da questo momento è un'attività difficile Luca? Come? Il fatto che l'avanzo si avvicina da questo momento è un'attività difficile da andare a essere Sicuramente sarà una partita difficilissima perché loro sono costretti a vincere e hanno perso le partite di seguito come hai detto a te e sicuro vengono qua a prendere i tre punti però anche noi li vogliamo lasciare qua siamo al nostro campo quindi sarà importante anche per noi grazie, grazie a tutti ci mettiamo qua col ventro e 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 ci mettiamo qua il là a andro A Bala di A Bala di A Bala di